Quanta polvere Pensavate che io non fossi più ritornato Invece no, io non mi arrendo 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 per chi ancora non è scritto. Ora lo vediamo insieme. Ciao ragazzi, sono io! Oggi volete che iniziamo un nuovo video? Fantastico! Ok, iniziamo subito! Ciao! Grazie a tutti! Ciao gente! Bene, e cosa ne pensate di questa intro? Andrà bene? Ah inoltre, come state vedendo qui il video editor, non ci sarà più giusto perché ho cambiato il programma per editare. Ora in diretta mettiamo la nostra intro e la nuova grafica. E inoltre intanto vi volevo dire che il computer è lento. E' un video a settimana forse un video ogni due settimane. E' perché di tempo ho visto che non c'è e quindi penso così, vediamo, difende, vediamo come mi va, quanto tempo libero. Intanto mettiamo la nostra intro. Mio canale. Aggiorniamola. Aggiorniamola qua. Modificare la grafica. Galleria. Che, carica foto. Carica foto. Presionare il tuo computer. E' questo qua. E' questa. Purtroppo non me la fa mettere Mi sembra di no, riproviamo Purtroppo no, e vabbè mettiamoci questa Eccola qua, mettiamo questa, purtroppo non la posso mettere Perché mi dice che non è tipo altezza, larghezza, non è nelle dimensioni E vabbè, seleziona, se facciamo così E voilà, eccola qua E ora mettiamo la nostra intro Vediamo, eccolo qua Dopo tanto l'ho trovato E benvenuti nella descrizione Oh mio dio, sapete che ora non mi ricordo cosa scrivo di solito Allora scrivo Ciao ragazzi Bene, mettiamo la nostra miniatura personalizzata Non mi ricordo neanche l'ho preparata Lo sapete E vabbè, allora ci mettiamo Andiamoci a mettere questa Che non... Prima non l'ha messa Purtroppo non l'ha messa Come grafica del canale Vediamo se me l'ha accettata 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 E ora ci resta da fare una cosa Aggiungi alla playlist No E ora pubblichiamo Tra 3 2 1 Sono le 18 e 34 E adesso pubblichiamo Dipende quanto deve caricare il video Pubblica Intanto vediamo Intanto vediamo La pagina di youtube La nostra Vediamo da... Si Come vedete E' da un mese Che non faccio video Eh si L'ultimo video Per i calciatori italiani Con Akinator E vabbè Oggi Anche oggi Abbiamo finito qui Mamma mia Siamo ritornati Finalmente Io sono contento E... Ah intanto ha fatto Si Ha... Ha fatto Ok Ha fatto Mamma Ok E... Ora Caricherò anche questo video Noi ci vediamo... Oh mio dio Non lo so Non lo so Comunque non lo so Vediamo Vediamo Comunque voi Restate Sincronizzati Su youtube Ogni giorno Vedete Siccome avete Alti youtuber Che vi piacciono Da seguire Quindi Non vi costa niente Che ogni giorno Visitate Per Cinque minuti Un'ora Dipende se vedete video Youtube E passate un attimo Al mio canale Vedete se c'è il video Allora ho fatto il video Se non c'è Ancora no Io vi saluto Passo come al solito A topolino Eeeeeee Ciao gente Ah lo sai Mi sono dimenticato Manco Oh mio dio Dovevo Per noi Visitatori Dovevo mettere La grafica Questa Qua Questa la togliamo Mamma mia E' penosa Quindi Cambia Trailer E mettiamo Questa qui La nuova Eccoli qua Bellissima Bellissima Per Il